Grazie dottor Cerra. Con il professor Razzante, che è docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano e alla LUNSA di Roma, membro esperto della task force governativa anti-fake news, sentiremo parlare appunto di intelligenza artificiale e fake news, usi e rischi nella società. Tema a noi, facile dirlo, molto caro come Facoltà di Scienze della Comunicazione. A lei la parola, professor Razzante. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i partecipanti a questo convegno che ho potuto seguire solo in parte sia ieri che oggi perché purtroppo avevo altre scadenze ma in qualche modo gli echi li ho raccolti e quindi ho maturato alcune riflessioni anche aggiornandole alla luce di quello che è maturato nelle varie sessioni. Io sono qui in questa duplice veste di docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano e alla LUNSA di Roma e membro della task force che il 4 aprile il sottosegretario di Stato all'informazione dell'editoria Andrea Martella ha istituito nel tentativo di frenare questa diffusione sui social e nel web di informazioni di fake news, quindi informazioni non vagliate e non verificate che finiscono per incidere negativamente sui comportamenti delle persone rispetto alle azioni di contrasto del Covid. Mi sono interrogato in questi mesi su quali potessero essere gli strumenti più efficaci per contrastare quella che è stata chiamata non solo da me ma da persone anche più autorevoli infodemia, quindi questa circolazione virale incontrollata di notizie che finiscono per disinformare. Si tratta di un'infodemia generata da due fattori, da una parte la superficialità, la negligenza, quindi la diffusione di queste notizie non è necessariamente dolosa ma rispecchia spesso un approccio superficiale alle fonti e dall'altra parte però c'è anche questa manipolazione ordita da alcuni centri di potere internazionale che indubbiamente diffondono notizie false per orientare le condotte degli stati, per influenzare gli equilibri geopolitici, quindi per condizionare la realtà planetaria. E quindi questi due poli non necessariamente distinti perché a volte si integrano e si fanno tra di loro, le fake news potremmo dire innocenti, incolpevoli e le fake news invece dolose ha prodotto un'overdose di informazioni non vagliate, non verificate che soprattutto in materia di Covid hanno generato molto disorientamento nell'opinione pubblica e lo generano tuttora. Ci sono opinioni molto diverse, molto contraddittorie, molto ondivaghe da parte di soggetti istituzionali che sul Covid hanno detto tutto il contrario di tutto e i social si sono fatti cassa di risonanza e amplificatori di queste distorsioni. Anche con il mio portale www.dirittodellinformazione.it che ho fondato un anno fa e che vi suggerisco di C'è un problema di linea, professor Razzante, purtroppo la connessione non c'è più. Quindi stiamo pazientando nell'attesa di capire se si riprende. Era arrivato proprio a dire l'indirizzo del suo portale che ha fondato alcuni mesi fa e lì ci siamo fermati. Io non ho registrato a mente, sentivo diritto dell'informazione.it credo di ricordare. In questo momento naturalmente cerco di occupare il tempo perché ci dispiace tanto, stava entrando nel cuore della comunica. Eccola, l'ha ripresa. Dicevo che non facciamo fact checking, non facciamo censura con la task force, ci limitiamo a indicare una griglia di parametri che abbiamo messo nero su bianco in un documento di 12 pagine scaricabile in qualunque momento dal sito del Dipartimento di Informazione di Toria, quindi dell'unità di monitoraggio di cui faccio parte. In queste 12 pagine abbiamo riassunto le azioni che secondo noi il Governo dovrebbe intraprendere per contrastare più efficacemente le fake news. Questa task force è composta da otto esperti e poi c'è un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante in funzione di coordinamento del Dipartimento Informazione Editoria e un rappresentante della Protezione Civile. E abbiamo indicato quelle che sono secondo noi delle azioni di sensibilizzazione, di comunicazione, di formazione che bisogna fare perché la sfida è soprattutto culturale. Far crescere l'informazione di qualità e fare in modo che nella rete siano sempre più facilmente raggiungibili e consultabili contenuti verificabili, quindi riconducibili a fonti istituzionali, supportati da evidenze scientifiche a proposito del Covid e che quindi vengano progressivamente marginalizzati anche con la forza dell'algoritmo di cui dirò qualcosa fra poco, marginalizzati quei contenuti di dubbia autenticità, quelli che non hanno un ancoraggio saldo a delle fonti istituzionali e attendibili. E quindi è un lavoro di progressiva sensibilizzazione. Non c'è un modo per scardinare dall'oggi al domani questo meccanismo perverso delle fake news. I rimedi sono rimedi di varia natura, sono rimedi giuridici e già ci sono perché ci sono delle leggi dello Stato, degli articoli del codice penale che puniscono queste condotte che vanno dalla diffusione di notizie false e tendenziose fino ad altri reati previsti dalle leggi dello Stato, parlo dell'Italia, quindi ci sono rimedi giuridici che devono essere potenziati a livello europeo perché la rete è ovviamente ubiqua, deterritorializzata e quindi le leggi nazionali non sono particolarmente incisive nel contrasto alle fake news. Ci sono rimedi tecnologici che riguardano anche l'oggetto di questo convegno, quindi tutto il tema dell'algoritmo, dell'intelligenza artificiale. I colossi del web hanno dato e stanno dando un grande contributo al contrasto, alla diffusione delle fake news. Stanno, potremmo dire, addestrando i loro algoritmi affinché riconoscano in maniera tempestiva le fake news, affinché possano quanto prima marginalizzarle nei circuiti della rete per impedire che si diffondano, che vengano cliccate eccessivamente e quindi il tema dell'algoritmo che si lega al tema dell'intelligenza artificiale e quindi si lega a tutte le nuove tecniche di deep learning di cui avete già parlato in queste sessioni e che sono appunto delle tecniche fondamentali che affinano l'intelligenza dell'algoritmo e fanno in modo che la riconoscibilità dei contenuti di dubbia autenticità sia sempre più nitida, sia sempre più efficace, proprio perché l'intelligenza artificiale non può sostituire il discernimento umano ma può certamente potenziare le azioni di contrasto contro le fake news. Quindi strumenti giuridici, strumenti deontologici, strumenti tecnologici, strumenti deontologici. L'Unione Europea nel settembre del 2018 ha varato un codice di autoregolamentazione contro le fake news che è stato sottoscritto da tutti i principali colossi del web che si sono impegnati a mettere in campo delle risorse finanziarie e azioni di contrasto contro le fake news. E durante il Covid, nelle fasi più critiche della pandemia, la Commissione Europea ha richiamato questi colossi del web a impegnarsi in modo ancora più fattivo per vincere questa battaglia contro le fake news. Quando fu fatto questo codice nel settembre 2018 si disse anche, si era in scadenza di quel mandato, di quella legislatura europea, si era in scadenza e si disse per ora facciamo un codice deontologico, ma se ci rendessimo conto che alle elezioni europee del maggio 2019 si dovessero riscontrare delle fake news virali in grado di condizionare il consenso elettorale, nella legislatura successiva faremo una legge, una direttiva, un regolamento europeo per disciplinare ancora meglio questa materia. Ecco, non se n'è più parlato perché io direi che questi strumenti deontologici stanno dando un contributo, si stanno dimostrando affidabili e quindi anche l'elemento e la leva deontologica possono contribuire a queste azioni di contrasto contro le fake news. E poi c'è tutto un quarto strumento di contrasto alla disinformazione che è lo strumento culturale, educativo, formativo. Bisogna potenziare le azioni di formazione fin dalle scuole dell'obbligo, far crescere la cultura digitale, far crescere la consapevolezza della necessità di avvicinare la realtà, la vita reale alla vita virtuale, quindi che nella rete si trovino effettivamente contenuti attendibili che rispecchiano la vita reale delle persone, quindi formazione nelle scuole dell'obbligo, corsi di formazione non solo sull'utilizzo dei device e quindi degli strumenti tecnologici, ma anche corsi di formazione sulla cyber security per esempio, su come proteggere al meglio i propri diritti in rete, su come cautelarsi per impedire la violazione degli account, dei big data, degli archivi, dei database, delle aziende, dei consumatori. In questa fase storica si è ampliato ovviamente l'utilizzo di internet, tutti i dati documentano una digitalizzazione progressiva di fasce di popolazione che mai erano andate in rete, mai avevano aperto un profilo social, quindi è evidente che si sono moltiplicati gli usi e si sono moltiplicati anche i rischi. La guardia di finanza è molto più impegnata di prima della pandemia a smascherare tutti questi reati, a contrastare queste violazioni, quindi evidentemente c'è un tema anche di cultura della cyber security che va fatta crescere e va alimentata. E sullo sfondo, e mi avvio alla conclusione, c'è questo tema del giornalismo di qualità. La pandemia ha risvegliato il desiderio di giornalismo di qualità e soprattutto ha offerto ai giornalisti la possibilità di riscattarsi dopo anni di penombra, di dimostrare quindi di essere dei professionisti affidabili in grado di generare flussi informativi più affidabili di quelli che si trovano sul web e sui social, dove gli utenti sono infinitamente più numerosi ma sono utenti dilettanti, avventurieri, persone che non hanno una professionalità giornalistica riconosciuta e che pretendono spesso di dare notizie o di esprimere giudizi su cose che non conoscono. Purtroppo quei giudizi vengono condivisi e diventano virali e contribuiscono alla disinformazione. Quindi c'è un tema di riconoscibilità dell'informazione di qualità in rete. L'informazione di qualità in rete non è sempre facilmente riconoscibile. Io anni fa lanciai la proposta di renderla riconoscibile attraverso la firma del giornalista affiancata dal numero di tessera professionale che significa che l'utente che non conosce il nome e cognome di quel giornalista ma attraverso la pubblicazione del numero di tessera sa che l'autore di quell'articolo è un giornalista iscritto all'ordine professionale che quindi è vincolato al rispetto di principi deontologici per la violazione dei quali rischia perfino la radiazione dall'albo, quindi poi l'impossibilità di esercitare la professione. Ecco, questo poteva essere uno strumento e lo può essere tuttora per rendere riconoscibile il lavoro dei giornalisti in rete. Ma, e qui credo che ci sia la scommessa fondamentale da vincere, la valorizzazione dell'informazione di qualità passa attraverso l'adozione di tecniche di intelligenza artificiale che non vanno contro il lavoro giornalistico ma possono esaltare le qualità del lavoro giornalistico. C'è una pubblicazione recente fatta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con un Ateneo di Napoli che mette in evidenza il ruolo che può avere l'intelligenza artificiale e quindi tutti i processi di automatizzazione del lavoro delle redazioni per potenziare la qualità dell'informazione, per aiutare il lavoro giornalistico, per favorire lo slancio creativo dell'opera giornalistica e quindi non bisogna guardare in termini manichei all'innovazione tecnologica come un qualcosa che toglie spazio al lavoro giornalistico, che riduce i posti di lavoro. Non è così perché l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale applicata al mondo del giornalismo non sostituisce in alcun modo la specificità della professione giornalistica ma può contribuire anzi ad esaltare le doti del giornalista ispirato alla deontologia professionale e quindi contribuire alla diffusione del suo prodotto giornalistico e al miglioramento dei processi di produzione delle notizie. E tutto questo si può fare soltanto in una logica di filiera, quindi mettendo attorno a un tavolo in modo sinergico e virtuoso tutti gli attori della filiera di produzione e distribuzione delle notizie, giornalisti, editori, colossi del web e altri soggetti impegnati a vario titolo nella produzione e distribuzione delle notizie. Quindi l'intelligenza artificiale può essere un volano, un moltiplicatore delle energie e delle risorse professionali del mondo dell'informazione a beneficio degli utenti che possono ricevere un'informazione sempre più equilibrata, documentata, verificata, attendibile, certificata, ma per fare questo l'impegno deve essere convergente e comune. Giornalisti, editori, colossi del web uniti in nome della difesa dei contenuti di qualità. E quindi tutti insieme possiamo combattere questa battaglia e vincerla per affermare una informazione migliore e per contrastare sempre più efficacemente le fake news. Vi ringrazio. Grazie a tutti.